E' il turno di Geodude, mandato da Timmy Bullo, guarda, guarda, voglio talmente vantarmi che ti uso Fangosberla Brutto colpo, ah no, 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 non è morto, super efficace pure, sti cazzi Precisione di Geodude cala, mamma mia, Geodude usa Richel Scudo Ehi, difesa di Geodude nemico sale, sì, sì, tanto te lo aro comunque Super efficace, yes! La prossima scelta di Tommy sarà Geodude, nope, nope, è il turno di Geodude, mandati in campo da Timmy Bullo Vabbè, ok, ci diamo un pistola acqua perché non c'ho voglia E' super efficace, stronzo! Geodude nemico esausto, muto che più riceve 100 odio livella, mamma mia, livello 17 Hai avuto la meglio su Timmy Bullo? Wow, ne hai di talento, Beppo vince 128 euro Non ti live- no, 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 no! Va bene Oh guarda Snorlax Parte la sfida tra Mark e Venturiero E il turno di Geodude Geodude Mandato Vai Modigate Allora Lotta Pistola acqua Meno che no Dai sta parte la velocizziamo Questa è la scelta poca Non c'ho voglia Vai Allora E il turno di Geodude Lotta Pistola acqua Ti haro troppo Ti haro troppo Ti haro troppissimo Mamma mia Guarda qua come muore Troppo forte Troppo forte Troppo forte Troppo forte Sono troppo forte Oh ciao Petra Ragazza con la vagina di Cioè volevo dire il cuore di Petra Sono diventato capo palestra Per mettere in pratica Nella lotta Quello che ho imparato Alla scuola per allenatori Vuoi dimostrarmi come Lotti E quali pokemon usi Va bene Te li haro tutti con bootkeep Parte la sfida di Petra Capo palestra E il turno di Geodude Madonna Un Geodude femmina Da cosa lo capisci che il Geodude è femmina Mi scusi eh Cioè ma da cosa lo capisci che quel Geodude è femmina eh Mi consenta Vabbè comunque E io ho arato Geodude Perciò Vadi via Boo Moodkeep riceve 220 Vai che Moodkeep qua Mi diventa forte eh Vuoi cambiare pokemon Nooo Vai E' il turno di Geodude Mamma mia un altro Geodude Livello 12 Sempre femmina Mi chiedo come faccia A capire La differenza tra un Geodude maschio E un Geodude femmina Il Geodude femmina Usa molto Le braccia che ha Ecco Allora Moodkeep riceve 220 Ho livello 18 Ti giuro se mi Se mi fai La cosa per livello La prossima scelta di Petra Sarà Nopesas Chi è Nopesas No 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 Non voglio cambiare pokemon E' il turno di Nopesas Mamma mia Le statue Oddio Scusatemi eh Piccolo Piccolo appunto Mi ha mandato Il pokemon C'è una testa Dell'isola di Pasqua Con il becco Vabbè Vabbè A noi questo Non deve importare Super efficace Rocciotomba Mi ho fatto malissimo Brutto stranzo Io ti uso di nuovo Un pistola acqua Ma ho usato blocco Ah vabbè Non posso scappare Non ti preoccupare Tanto che minchia Voleva scappare Cosa stai facendo Bacca arancia Nemico Si ristabilisce la salute Vediamo Eh mamma mia Troppa Pozione Lo strumento usato Da palestra Eh si Vabbè Mamma mia Sti cazzi Super efficace Vai pistola acqua Pistola acqua Ancora No tranquilla Non rompere il cazzo Dai in un altro po' Mamma mia Super efficace L'ho capito Sì ma non rompi il cazzo Però Alleluia Finalmente attaccazione Ok muori dai Oh mamma mia Ok sei Pokémon di merda Cazzo sei Un Pokémon Un sasso col becco Cazzo sei 340 punti Ok Perfetto Quindi ho perso Sì Credo di avere ancora molto da imparare Ora mi è tutto più chiaro Vieni conferito Si conviene con un pavoletto Ti prego C'è tra la medaglia pietra La lega Pokémon Pepo vince 1500 No 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 Fermati No Oddio Dai calmo Ecco Stati calmino eh Bloccate evoluzione di mood Kip Ecco Stati calmino Allora Pepo riceve la medaglia pietra da Petra Sfido io a ricevere la medaglia di ghiaccio da Petra Migliora la potenza di attacco dei tuoi Pokémon Ti prego accetta anche questa Hai ottenuto MT39 Cosa è? Contiene rocciotomba Mepiasa Ok Abbiamo battuto il primo capopalestra No ragazzi Non lo faccio evolvere Perché voglio imparare le mosse fighe Lo faccio evolvere dopo Allora Lasciami andare Sempre lo stesso coglione di prima Aspetta per favore Non prenderti la mia merce Vabbè Oh guarda che è il museo di Museopoli qua Quel pacchietto rubato Beh di sicuro è importante Ma non contiene niente che si possa usare Credo che mi fanno Un'intelligenza Vabbè Hanno rubato Vabbè Posso andare di qua? Ah no Non ci posso andare Prima devo recuperare il pacco E poi forse Ok Allora Come un tipo losco Si mi pare Che un tipo dall'aria sospetta Sia passato di qui Ok ragazzi Comunque Mobot è un bot Ragazzi Cioè lo dice pure Il nome suo stesso Cioè un computer Che dipende da quello che spammate Lui vi blocca Allora Si mi pare Che un tipo losco Sia passato Va bene Allora vediamo Oh ti conosco Sei quello che mi ha salvato Sì e tu sei quel testa di minchia Che si fa fottere le cose 3000 volte Che sei un pene Mamma mia Cioè Cammina con un orologio d'oro In mano così Mamma mia Ti metti un cartello dietro Intermittenza Che dice rubatemelo Per favore Sono un cretino C'ho le mani di albicocca C'ho Mamma mia Aiutami il timidro Mi ha derubato Devo riprendermi la merce Sarò veramente nei guai Sì Sì Andiamo sopra Perché tecnicamente Mi sa che devo andare di là C'ho sopra cosa trovo Un percorso Oh guarda il mare Oh pokeball Pepo trova super pozione Yes Pepo si la mette via Sì 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 Oh ciao tizia Esplorare una grotta È come camminare Lungo una strada Sì Ok Allora Di qua ci posso andare Nope Parapapa 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 Quanto sei stupido Mamma mia Quanto sei stupido Mamma mia Ah ti pareva Che ci può rimanere La mia squadra Di pokemon Non è grande Provare Ah è grande Provare per credere Allora Mi piacerebbe catturarlo Machok Allora vediamo che Pokémon trovo qua Porca troia Cazzo ci stavo sperando Dai no ci stavo sperando Non è giusto Non è giusto Uffa ci stavo sperando Pokémon coniglio Che cazzo è sta cosa Cos'è sta cosa Cos'è sta cosa Cos'è questo Pokémon coniglio Cos'è 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 cazzo Cos'è Cos'è sto Pokémon qua Cos'è 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 Allora Invece Swampert Moodkeep al 42 Mi pare che si impari Dropompa Invece Swampert no Allora Un coniglio pedofilo Abba la pistola Quello Allora No 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 ragazzi Io voglio Abra Voglio Abra Non mi interessa Voglio Abra Oh che mossa vuole imparare Aspettiamo Fammi vedere Vanifica L'aumento di allusione Sì Perfetto No 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 Madonna Ogni volta Ti fermi Per favore Non c'ho voglia Occhi Perfetto Allora Allora Ciao che mi sono persa Io che tendo di catturare Dei Pokémon Voglio Abra Voglio Abra Non mi interessa Voglio Abra Voglio Abra Me lo consigliate Come Pokémon Erba Me lo consigliate Come Pokémon Erba Allora Ragazzi Me lo consigliate Allora Mi serve Un Pokémon Erba Ragazzi Allora Sì Allora No è un insetto No no Sì Sì Imparataio E Coleottero No 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 Fa schifo No 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 Ok va bene Va bene Non lo prendo Non lo prendo C'è un Coleottero No io voglio un Pokémon Erba Non un Pokémon Coleottero Allora Ok va bene Arriviamo lì un po' Voglio Abra Voglio Abra Non mi interessa Intanto però A sto punto Visto che tanto Sto livellando I Pokémon A sto punto Livelliamo un pochettino Lui Ok Uno Dos Tres Sì Sì Skitty 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 Time Time Shitty Skitty Well Nope vero salva 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 ok salvo allora ok salvato poi facciamo qua file salva così perfetto leviamo il puntatore allora prendi il bradipo che c'è nel bosco la sua evoluzione è potentissima ma che il bradipo no mi fa schifo il bradipo cioè non mi piace cioè non mi piace proprio come come pokemon sarà potentissima e tutto quanto però ralz è meglio di abra è meglio di abra ralz vabbè me lo voglio catturare per una cosa mia ti aspettate mi expo pure un pochettino lui ho livello 10 perché non impara nulla confusione oddio li ho arati tutti 1 2 1 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 15 16 16 18 16 16 17 17 18 19 20 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 26 26 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 26 26 25 25 26 28 28 29 30 29 Vabbè Tutto convinto La Premier Ball è fica Mamma mia La Premier Ball più fica del mondo Repellente Che repellente Sala a livello Impara doppio team Cosa cazzo è doppio team? Vabbè 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 Ok Eh dai Dai Uno Due Tre Sì Sì Pokémon di merda Poké Stronzo Vabbè Vabbè Perfetto Abra l'abbiamo catturato Pokémon di merda Pesa 20 chili No 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 Pokémon di merda Ti nominerei Allora fine Ok Ora voi indovinerete Pepe catturato Abra E mo niente Lo volevo catturare Punto basso Che tanto mi pare Che per farlo evolvere In Alakazam Lo dovrei scambiare Con l'emulatore Mi sa che non si può Può cambiare Pokémon No